Buonasera, benvenuti, benvenuti a tutti. Tra pochi minuti inizieremo questo incontro dell'Università del Dialogo, un incontro importante sia per il tema ma anche per l'ospite che ha accettato il nostro invito. Chi è già venuto ad incontri dell'Università del Dialogo sa che ormai da qualche mese vogliamo anticiparli con un momento musicale, un momento musicale che è curato dal Laboratorio del Suono. Il Laboratorio del Suono è l'Accademia musicale dell'Arsenale della Pace perché l'Arsenale è tante cose, è una casa di accoglienza, è una casa di spiritualità, di cultura ma anche una casa dove in qualche modo nascono le idee, nascono le idee come questa sera ma nascono le idee anche in musica. L'Arsenale è una casa dove ogni anno centinaia di persone di tutte le età, dai più piccoli ai più grandi, vengono qui per imparare uno strumento e allora ogni mese vogliamo proporvi uno strumento diverso. Questa sera vedete c'è un pianoforte e allora invito qua sul palco Riccardo Zigoni con la sua docente Donatella Basso del corso di pianoforte classico del Laboratorio del Suono. Ci faranno ascoltare un brano di Iruma, si intitola Kiss the Rain. Grazie a tutti. 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 una vita spesa per gli altri. Torniamo indietro, facciamo un passo indietro, qual è stata la scintilla da cui è partito tutto, la scintilla che ha suscitato questo percorso? Intanto ci davamo del tu, prima cosa, ma innanzitutto vorrei veramente ringraziare, se posso, due secondi prima delle domande, l'arsenale della pace, Ernesto Olivero, che ho avuto il grande piacere di conoscere stasera e anche questa realtà dell'arsenale della pace, io ne ho sentito naturalmente parlare da sempre, ma non l'avevo mai visitata, quindi è un'occasione formidabile, bravissimi, fantastico e insomma avrei molto da dire, ma questo non è, non siamo qui per quello e poi voi conoscete questa esperienza meglio di me. Per quanto riguarda la tua domanda, cos'è stata la scintilla? Chi lo sa? Quali sono le scintille che muovono queste cose nella vita? Io ho cercato di descrivere all'inizio del libro un pochino le due ispirazioni che mi hanno mosso in questa direzione e una, senz'altro, è la mia formazione familiare, personale. Io vengo da una famiglia milanese, sono nato a Milano, Lombarda, diciamo, e una famiglia dove l'impronta cristiana, l'impegno per i poveri da molte generazioni era molto sentito, quindi senz'altro io ho assorbito anche culturalmente un'attenzione, diciamo, verso gli altri. E poi a me, io fin da bambino avevo la passione di, avevo questa idea di voler andare lontano. Adesso il concetto di lontano oggi per voi ragazzi è diverso, penso, un pochino diverso, perché internet ha avvicinato tutto, ma io vengo ancora da una generazione che non aveva quell'apertura tecnologica sul mondo, per cui lontano era veramente lontano ancora. E c'era questa aspirazione molto infantile di questa passione per l'esotico, descrivo la mia passione, alcuni di voi più della mia età sapranno di cosa parlo, i libri di Salgari, i libri d'avventure. E questo, io credo, il connubio fra l'attenzione, il volere fare qualcosa per gli altri, e il volere conoscere il lontano, si sono, chissà come queste cose succedono, si sono unite a qualche scintilla scoccata e poi ci sono state delle opportunità pratiche. Io questo dico sempre ai ragazzi. È molto bello avere aspirazioni, ma poi bisogna sapere cogliere le opportunità e avere un pochino di coraggio. La prima persona che mi ha detto vieni a fare il volontario in Thailandia, io ero un giovane appena laureato, io non sapevo cosa voleva dire andare a fare il volontario in Thailandia con i rifugiati, però ci sono andato. Gli ho solo detto, era il mese di novembre, ricordo, posso passare il Natale a casa? Perché avevo un po' di timore all'ultimo momento di andare via. Ho passato il Natale a casa e poi sono andato per tre mesi e là ancora sto, in un certo senso. Quindi è un insieme di vaghi sogni che uno ha da bambino che si sono progressivamente cristallizzati intorno a delle reali opportunità e poi a dei reali problemi e tutto questo, e concludo questa prima domanda, tutto questo io credo, ho cercato di descriverlo nel libro, descrivendo anche come tutto questo è diventato un mestiere, è diventato un mestiere, perché il mio è un mestiere, è un mestiere che si impara con le sue tecniche, con la sua nomenclatura, con le sue difficoltà, con le sue opportunità e quindi alla fine il sogno diventa anche una realtà quotidiana di lavoro duro e difficile. Quindi è un pochino questo percorso, non so se rendo l'idea. Ecco, ci diamo del tuo allora. Citavi la prima esperienza in Thailandia, da lì è iniziato un percorso che ti ha portato veramente in tantissime situazioni di crisi umanitaria, dalla prima guerra in Iraq, poi in Rwanda, l'ex Zaire, l'Afghanistan, poi appunto adesso alla guida dell'alto commissariato dell'ONU per i rifugiati. C'è un verbo che nel libro si ripresenta in modo continuo, che è il verbo esserci, e colpisce questo verbo perché spesso si scontra con la sproporzione dei problemi, con il senso di impotenza, con situazioni a volte magari più grandi, anche di quello che un'organizzazione così importante come quella che guidi può fare. Che significato ha avuto questo esserci per te come persona impegnata in questo campo, ma anche che cosa significa esserci per l'UNHCR, concretamente? Questa è una bella domanda. C'è qui mia sorella, che era anche la mia agente letteraria, che mi ha aiutato molto a scrivere questo libro. Abbiamo dibattuto per molto tempo se dargli il titolo esserci, perché ci sembrava importante. Poi esserci ha delle connotazioni filosofiche complicate, quindi abbiamo lasciato stare, abbiamo fatto rifugi e ritorni che più, che tutti possono capire. Ma la domanda è importante, perché forse due cose, due cose sull'esserci, che sono anche molto cosciente di parlare con ragazzi, con molti giovani qui, e quindi anche un messaggio per loro. Prima cosa, esserci vuol dire l'impegno, ma non l'impegno teorico, l'impegno reale, esserci, essere lì, in quella situazione con le persone con cui si lavora. A me non piace, non è mai piaciuto dire, parlare dei rifugiati. Io ho lavorato soprattutto in questioni dei rifugiati nella mia carriera, non solo, ma soprattutto. Non mi piace mai dire lavorare per i rifugiati, sempre lavorare con i rifugiati. Questa idea, questa idea va con l'idea, va con la necessità di essere presenti. Io ho, tanti ragazzi vengono a chiedermi come posso cominciare questo lavoro, come posso fare quello che hai fatto tu o fare quello che fanno i tuoi colleghi. Io dico sempre la prima cosa da fare per anche parecchio tempo è lavoro pratico, operativo, con le persone, come quello che fate qui all'arsenale, ma anche in tanti altri modi si possono fare queste cose. Quindi esserci in quel senso molto pratico e molto comprensibile. Però esserci è anche un altro senso, io credo, in questo libro. E lo dico un pochino in quella piccola, in brevissima intervista che è stata fatta vedere prima. Esserci anche perché è strano, è molto strano che il lavoro che ho fatto io, io non ho lavorato, accordi di pace, non ho negoziato grandi trattati, non sono mai stato nel mezzo di quelle situazioni fondamentali in cui si metteva la firma e finiva la guerra o cominciava un'uova grande cooperazione internazionale. Io ho sempre lavorato nei margini, nelle crisi che colpivano le persone nel modo più crudo e che spesso erano dimenticate. E quindi l'esserci ha anche quel significato, ma a volte stranamente esserci in queste crisi di colpo mi proiettava, proiettava me e i miei colleghi al centro della storia contemporanea. Questo è un immenso privilegio. Quando mi sono trovato in Afghanistan l'11 settembre del 2001, il giorno degli attentati, ero in Afghanistan. Quando mi sono trovato nella guerra in Iraq o in altre situazioni dopo il genocidio ruandese, descrivo nel libro diverse di queste situazioni. Quindi non ero al centro della storia, ero alla periferia, ma di colpo quella periferia, la periferia delle persone che soffrono le conseguenze della storia, diventava per un momento centrale. Quindi la nostra responsabilità non era solo di aiutare le persone, ma anche di approfittare di quella finestra di visibilità, di centralità della storia, per dire al mondo non dimenticatevi di loro. Quindi esserci anche in quel senso. Grazie. C'è una prima domanda di Ilaria. Il microfono, Ilaria, lì davanti. Buonasera. Io volevo farle una domanda. Lei ha intitolato il suo libro Rifugi e ritorni. Ecco, lei racconta le storie di questi rifugiati che scappano dai propri paesi di origine e che molto spesso hanno il desiderio di ritornarci. Ecco, noi forse molto spesso ci scordiamo di questa cosa. Lei che cosa ci può dire, secondo la sua esperienza? Io tenevo molto a che il libro trattasse le due cose. Non soltanto le crisi dei rifugiati, la gente che fugge, ma anche la gente che torna. Perché questa è una dimensione importante, spesso dimenticata. Noi adesso è inutile raccontarsi delle storie, lo sappiamo tutti. Viviamo in un tempo in cui purtroppo la problematica dei rifugiati, come quella dei migranti, come quella delle persone che si muovono, è strumentalizzata a fini politici, in modo orribile. Lo sappiamo. Io non faccio politica, io faccio l'umanitario, però lo vediamo bene tutto questo. E in quella strumentalizzazione c'è sempre anche sottinteso questa idea cattiva, secondo me, che i rifugiati, ma anche i migranti che si muovono per ragioni differenti, vanno altrove per approfittarsi di situazioni migliori. È un concetto aberrante, però è un concetto che purtroppo ascoltiamo tutti i giorni nella nostra vita quotidiana. Ora, una delle tante risposte che si possono dare a questo concetto è che in realtà, in realtà, a parte tutto il resto. I rifugiati è gente che prima di tutto non scappa per scelta, cioè, diciamolo meglio, sceglie di scappare perché non ha altre scelte. Questa è la fondamentale punto di partenza. Ma i rifugiati, in gran parte, io ho lavorato con rifugiati recentissimi, che quindi erano scappati il giorno prima, ma anche con rifugiati che erano già da molti anni in esilio o addirittura da generazioni in esilio. Questo desiderio di ritornare a casa è molto forte. Certo, col passare del tempo un pochino diventa meno urgente e diverso. Pensate ai palestinesi, pensate agli afghani, pensate ai somali. Ci sono bambini somali o che sono ormai seconda o terza generazione in esilio, quindi non hanno forse neanche mai visto il loro paese. Eppure il desiderio di ritorno c'è, è forte. L'altra considerazione da fare, sempre in questo senso, è che non dimentichiamoci, e questo anche con Matteo ne abbiamo parlato tante volte. Ci sono circa 70 milioni di persone al mondo che la mia organizzazione considera come persone che sono fuggite dalle proprie case, dalla propria terra, sia per guerra che per persecuzione, violenza, discriminazione, tutte le ragioni che caratterizzano, definiscono un rifugiato. Alcuni di loro, anzi la maggioranza, non riescono neanche a arrivare alla frontiera, quindi sono rifugiati nel proprio paese. Noi li chiamiamo sfollati, perché è un altro termine, ma è un po' la stessa cosa. Quindi rifugiati e sfollati sono circa 70 milioni. Ora, di questa cifra molto grande, è più che la popolazione in Italia, questa cifra, il 90%, l'85 e il 90% si trovano in paesi poveri o paesi con scarsissime risorse. Soprattutto, ancora più importante, si trovano molto vicini a casa loro. Cioè le persone che fuggono tendono a non andare troppo lontano, perché? Perché vogliono tornare a casa e sanno che se vanno lontano è più difficile. Certo, poi ci sono rifugiati che desiderano o necessitano di forme di protezione che in quei paesi non possono trovare, quindi vanno oltre o per altri motivi vanno oltre, ma la grande maggioranza sta vicino a casa, sta relativamente vicino a casa. Questo non dobbiamo dimenticarlo. Quindi desiderano tornare, geograficamente non sono lontani, è per questo che noi diciamo che di tutte le soluzioni, come si dice nel gergo tecnico, che si possono trovare per persone in esilio, la migliore, quando è possibile, non è spesso possibile, ma quando è possibile, è un ritorno volontario in sicurezza e nella dignità. Ci sono tre grandi condizioni. Uno deve essere volontario, nessuno può essere obbligato a tornare a casa. Due deve essere nella sicurezza, naturalmente, e terzo nella dignità. Uno non può essere rispedito a casa e poi finire male o vivere in condizioni difficili. Filippo, nel tuo libro racconti un'esperienza che appunto leggendola possiamo definire estrema, si riferisce a queste immagini. Siamo negli anni 90 dopo il genocidio del Ruanda, una gravissima crisi umanitaria nell'ex Zaire, nella Repubblica Democratica del Congo. Siamo a Goma, abbiamo delle immagini proprio, tra l'altro abbiamo trovato, ci sei pure tu, ecco, qualche anno fa. Ecco, una situazione umanitaria terribile perché ci fu un'epidemia di colera che provocò qualcosa come 50.000 morti. Tu nel libro racconti veramente delle pagine drammatiche di questo periodo. Ecco, in una situazione del genere emergono anche i limiti del sistema. Tu arrivi a definire le Nazioni Unite un'organizzazione fragile che come obiettivo è quello di creare uno spazio vuoto in cui gli attori di una crisi si possono incontrare, ma anche in modo contraddittorio. Ecco, come si fa a fronte a questi limiti? Perché situazioni come queste sono anche una sconfitta della politica, dell'umanità? Questo anche è un punto molto importante. Le crisi umanitarie sono quasi sempre il risultato di un fallimento della politica. Io questo l'ho detto e ridetto e l'ho scritto e riscritto nel libro. E' quando la politica non trova le vie della pace che continua la guerra e quindi le persone devono fuggire dalle proprie case. Io ho parlato di questa mia visione un pochino provocatoria del sistema delle Nazioni Unite. Ma che cos'è il sistema delle Nazioni Unite? Il sistema delle Nazioni Unite è quello che è stato inventato negli anni 40, nel 1945, per dire mai più una seconda guerra mondiale. Questo è l'origine, la genesi delle Nazioni Unite. Quindi cerchiamo di radunare in un'organizzazione tutti gli stati perché si possano trovare delle soluzioni diplomatiche, politiche ai conflitti, alle guerre e non ci sia più la pace. Poi il sistema delle Nazioni Unite è diventato un enorme sistema con tante caratteristiche e tante funzioni, ma la sua funzione di base è quella. Ora voi mi dite ma le guerre continuano. Sì, io sono sempre un pochino un ottimista, cerco di vedere le cose da un punto di vista un po' più positivo. Se non ci fossero state le Nazioni Unite come organizzazioni di state, forse queste guerre sarebbero state ancora peggiori. Forse avremmo avuto un'altra guerra mondiale, sappiamo che con le armi di oggi la guerra mondiale sarebbe catastrofica per tutti, ancora più dell'altra. Quindi le Nazioni Unite offrono effettivamente quello spazio. Io lavoro per le Nazioni Unite, ma lavoro per una parte molto operativa, pratica del sistema, ma il cuore delle Nazioni Unite, la sua macchina politica, adesso alcuni di voi forse che studiano queste cose lo sanno, il Consiglio di Sicurezza, l'Assemblea Generale, gli organi principali delle Nazioni Unite a New York, sono preposti proprio a questo, a dare agli stati un posto dove parlarsi e non spararsi addosso. Questo è fondamentalmente la missione di pace delle Nazioni Unite. Ora, è molto interessante, e non voglio dilungarmi perché si va al di là del tema, ma è molto interessante di vedere come questo in pratica si è tradotto nei decenni, perché per molto tempo, per qualche decennio, le Nazioni Unite operavano nel contesto della guerra fredda, quindi con due superpotenze che si guardavano male l'un l'altra, però nelle Nazioni Unite parlavano, era il solo posto dove si potevano parlare. L'Unione Sovietica è poi caduta, è crollata, c'è stato un momento in cui gli Stati Uniti sono stati la potenza dominante, lì è sembrato che si potesse in quel momento di meno teso avere, veramente creare nelle Nazioni Unite in modo più robusto, più sostenibile, un posto della pace. Oggi vediamo un fenomeno, una terza fase. Oggi siamo in un mondo in cui i poli non sono più due, come nella guerra fredda, non è più uno solo, come in quei pochi anni dopo la fine della guerra fredda del muro di Berlino, ma i poli sono tanti, sempre di più la Russia di nuovo, la Cina e altri Stati giocano un ruolo determinante negli equilibri politici mondiali. Quindi le Nazioni Unite sono diventate in un certo senso di nuovo molto necessarie per poter riconciliare queste forze che sono in tensione una con l'altra. Ma alla fine, se queste forze non trovano degli accordi in questo spazio che gli è dato dall'organizzazione, se queste forze non cooperano, cooperare è la parola chiave nel fare la pace oggi, se questo non succede, le Nazioni Unite da sole non sono un'istituzione che può fare la pace, devono farla gli Stati e farla gli Stati vuol dire le opinioni pubbliche che eleggono i governi, insomma gli Stati è la fine di una grande catena di cui facciamo parte tutti. Ma questo è un punto molto importante, perché molto spesso, e questo non lo dico a difesa delle Nazioni Unite, perché molto spesso le Nazioni Unite non servono a niente. No, servono, ma bisogna capire come servono. Sono un vuoto che si deve riempire, che gli Stati devono riempire. Naturalmente, adesso io lo dico così un po' provocatoriamente, ma noi dall'interno delle Nazioni Unite diamo molti suggerimenti a questi Stati su come cooperare e come lavorare assieme. Io nel libro cerco di descriverne alcune di queste situazioni, ma è una dinamica complicata da capire che purtroppo oggi facciamo male la pace, la facciamo molto raramente, non siamo più tanto capaci di andare intorno a quel tavolo e parlare. Eppure quel poco che si fa è ancora necessario. E io esiterei molto, a volte sento queste proposte, nell'eliminare quello spazio e dire non serve a niente, eliminiamo le Nazioni Unite, lavoriamo fra Stati. Io credo che se si andasse in quella direzione, alcuni leader purtroppo vorrebbero andare in quella direzione, andremmo rapidamente verso un mondo ancora più difficile. Grazie. C'è una domanda di Andrea. Buonasera. Prima lei ci ha raccontato appunto l'importanza del concetto di esserci anche realmente e fisicamente. Lei si è mai sentito un po' impossibilitato ad agire, impossibilitato ad esserci in una di queste emergenze umanitarie appunto? Tante volte, quasi sempre. È difficilissimo. Guardate che io questo... Matteo non ha spiegato. Il libro è diviso in capitoli che sono dedicati ciascuno a una popolazione in fuga con cui io ho avuto a che fare. Ma ogni capitolo è suddiviso in capitoletti che invece ricorrono lungo tutto il libro, come esserci per l'appunto. Uno dei titoli dei capitoletti che ricorre è paura. Quindi ancora di più di quello che mi stai chiedendo. Non è soltanto un senso di impotenza, quello che mi chiedi tu, ma un senso di paura. Le masse in movimento, le masse di popolazioni disperate in movimento. Io ne ho viste veramente, letteralmente, muoversi a milioni. L'esposizione pubblica che uno ha in queste situazioni, in queste grandi emergenze, la stampa, i media, oggi poi più che mai con i social media, con tutta questa nuova dimensione di pubblicità, di visibilità. La pressione politica che gli stati fanno, anche su di noi, gli attori umanitari, al più alto livello, e molto brutalmente, perché spingiamo in un senso o in un altro, a seconda degli interessi politici in gioco. Tutto questo crea, non soltanto un senso a volte di impotenza, ma di paura, di paura. Io ho sempre detto che avere paura, e poi c'è la paura, purtroppo, più che capita anche di essere in situazioni molto pericolose, dove possono spararti, ma la paura è sana. La paura è sana, nel senso che non avere paura è come non avere la febbre quando si ha un'infezione, e quindi qualcosa di brutto sta succedendo nel corpo. La paura è una febbre, è un segnale, è un segnale di qualcosa che sta succedendo che ci consente di organizzarci per superare quel momento di incertezza. E quindi, cosa si fa per superarlo? Quando, soprattutto, per rispondere alla tua domanda, uno si sente impotente? Beh, io credo che bisogna avere coraggio, bisogna avere molto coraggio, e quel coraggio, io sembra che, voglio dire, sono stato coraggioso, sono stato coraggioso perché ci sono state situazioni in cui ho visto che o la va o la spacca, o io parlo pubblicamente, o chiamo il presidente, o mobilito 40 organizzazioni, dipende dal tipo di situazione in cui io non ho a che fare, o la situazione sarebbe diventata disperata. E credo che c'è un po' il coraggio della disperazione, ma c'è anche un altro coraggio, secondo me molto importante, e anche quello ho cercato di descriverlo, è il coraggio che ispirano queste stesse persone. Perché io dico sempre che i rifugiati, le persone che fuggono da guerra, da violenza, a volte violenza anche personale, in Centro America oggi noi consideriamo rifugiati coloro che fuggono dalla violenza delle bande armate, non sono stati, queste sono delle bande criminali, ma fanno un tipo di violenza che noi consideriamo uguale a quella degli stati, e quindi le persone sono rifugiati. Le persone che fuggono da queste discriminazioni, da queste situazioni terribili, quella decisione di lasciare tutto, guardate che è straordinariamente difficile. Pensate alla vostra vita, e alcuni di voi qui, lo so, sono rifugiati e hanno preso quella decisione, di lasciarsi indietro tutto, famiglia, amici, casa, lavoro, consuetudini. Pensate se oggi dovete scappare da Torino e andare in Francia o in Svizzera e lasciare tutto, magari per sempre. È una decisione di una difficoltà che pur nella sua terribile contesto richiede un coraggio straordinario. E' per questo che i rifugiati sono persone resilienti, sono persone che molto spesso sono capaci di rifarsi la vita anche in condizioni difficili, perché hanno una forza e un coraggio dentro di loro e quel coraggio è quello che alla fine ti dice va bene, è impossibile, non ce la farò mai, non riusciremo mai a portare abbastanza viveri o abbastanza acqua e ci sono state situazioni soprattutto in quel frangente terribile del Congo negli anni 90 in cui la gente cominciava a morire, il colera, guardate un'epidemia di colera è una cosa da quel punto di vista che non mi sono mai sentito così completamente impotente nella mia vita però è il coraggio il coraggio delle persone ispira avere quel po' di coraggio che ti serve a superare quell'incertezza e poi e poi si va avanti perché bisogna andare avanti con grande realismo grazie Michele buonasera in parte alla mia domanda ha già risposto ma in un mondo complesso come quello di oggi ha ancora differenza ha ancora senso fare differenza tra rifugiati e migranti questa è una domanda così difficile perché oggi in Italia è una domanda legittima perché si distingue questi gruppi io direi questo i rifugiati i rifugiati e molti di voi qui oggi ne ho incontrati qui all'arsenale sono persone che sono entrate nel ciclo della domanda d'asilo del riconoscimento eccetera quindi i rifugiati possono fare questo tipo di percorso che speriamo sia positivo nel senso che sono riconosciuti anche dallo Stato come rifugiati perché hanno delle tutele dei diritti che gli sono riconosciuti dal diritto internazionale e dal diritto dei rifugiati c'è tutta una branchia del diritto che è dedicata ai rifugiati c'è la convenzione del 1951 e poi ci sono tantissimi altri strumenti giuridici internazionali e poi tradotti in molti paesi nella legislazione nazionale ora questo corpo legislativo giuridico protegge i rifugiati secondo certe definizioni e secondo un processo di determinazione che ha anche lui delle regole naturalmente poi ci sono altre persone che fuggono per altri no fuggono che si muovono per altri motivi io insisto sempre su un punto importante queste altre persone che noi chiamiamo migranti la maggior parte dei migranti nel mondo si muove secondo canali completamente regolari esistono canali migratori regolari che consentono alle persone a seconda della necessità di lavoro in un paese o non l'altro di ottenere visti per un certo periodo di andare a lavorare in un certo paese mandare i soldi a casa cioè la maggior si è un po' perso di vista che la migrazione in gran parte oggi è ancora migrazione regolare ma purtroppo questi canali migratori sono diventati insufficienti sia alla domanda che all'offerta di migrazione e per motivi politici non vengono sufficientemente allargati è molto difficile e diventa più difficile oggi per chi vuole migrare per andare per avere una vita migliore che è assolutamente legittimo come aspirazione però è difficile quindi ci sono migranti che usano i canali dell'asilo per potersi muovere perché sono canali che gli permettono di andare nei paesi stare ottenere certi benefici per un certo periodo eccetera eccetera quindi c'è confusione fra queste due categorie in parte così create dalle percezioni ma in parte anche create dalle dinamiche che si sono venuti a sviluppare in questi movimenti di popolazione quello che noi diciamo che non non mescoliamo troppo perché prima di tutto e qui sono molto pratico se noi cominciamo a rimettere in discussione la nozione di rifugiato e tutto quello che le sta intorno dal punto di vista giuridico oggi nel contesto politico di oggi perdiamo terremo non guadagniamo terremo cioè quello che rischiamo di fare è di avere meno diritti per tutti per i rifugiati e per i migranti quindi conserviamo la costruzione secondo me ancora legittima che protegge i rifugiati e lavoriamo ai diritti dei migranti i migranti hanno anche loro dei diritti sono di natura diversa innanzitutto tutti hanno gli stessi diritti umani come persone e poi ci sono dei diritti io sono meno esperto in quel campo che governano anche le migrazioni comprese le migrazioni irregolari quindi è questo su cui bisogna lavorare e che è un po' difficile voi forse avete seguito chi di voi segue il dibattito politico le Nazioni Unite hanno proposto due patti due compact si dice in inglese due patti uno sui rifugiati e uno sui migranti questo è il risultato dei grandi movimenti del 2015 e del 2016 verso l'Europa questi patti non sono altro che delle proposte delle alleanze fra gli stati per meglio gestire questi due distinti tipi di movimenti quindi per esempio io apprezzo molto l'Italia ha molto appoggiato il patto sui rifugiati ma per motivi politici non ha voluto sottoscrivere il patto sulle migrazioni secondo me è un errore perché più si lavora insieme sui due canali di movimento e più si possono ottenere dei risultati pratici ci sono paesi che hanno bisogno dei migranti economici ci sono migranti che hanno persone che hanno bisogno di migrare quindi c'è molto interesse in comune da tutte le parti solo bisogna regolarlo bene bisogna creare dei canali prevedibili abbondanti per cui le persone possono venire regolarmente altrimenti quello che succede è quello che sta succedendo adesso confusione tra le categorie molta migrazione irregolare che rimane irregolare creando problemi in tutti i paesi e anche indebolimento del canale dell'asilo che invece è molto importante perché ultimo punto questa è una questione molto complessa non dimentichiamo al di là della tattica che possiamo avere rispetto a queste due categorie i rifugiati hanno una caratteristica principale che non possono essere rimandati nel proprio paese senza che la loro vita sia a rischio o li si rimanda in una guerra o in una situazione in cui sono perseguitati o discriminati quindi c'è un fondamento molto importante molto reale a questa protezione internazionale dei rifugiati quindi sì io sono ancora dell'idea che sia importante con tutte queste qualifiche con tutte queste precisazioni mantenere questa categoria per difendere meglio i due gruppi ecco torniamo ai dati che dicevi all'inizio la realtà di 70 milioni di persone ecco vediamo i dati proprio su rifugiati e persone in fuga persone in fuga circa 68 milioni e mezzo appunto dati dell'UNHCR e vediamo come sono distribuiti sfollati interni 40 milioni lo dicevi prima rifugiati 25 milioni richiedenti asilo circa 3 milioni c'è un piccolo video da cui partirà poi la prossima domanda che sfata tanti luoghi comuni è un video proprio dell'UNHCR che ci dice quali sono i paesi che accolgono di più i rifugiati è un video che ci darà qualche sorpresa vediamo grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora la domanda è questa, da una parte c'è appunto una strumentalizzazione politica, a volte disinformazione, dall'altra però c'è anche il sentimento della paura delle persone che può essere legittimo, non sempre una colpa. Come se ne esce? Qual è la via d'uscita in base alla tua esperienza, in base anche all'osservatorio da cui vedi il mondo? L'Europa ha sviluppato negli anni, dopo la seconda guerra mondiale, un sistema di asilo molto buono, molto solido, molto garantista dei diritti dei rifugiati. Un esempio per il resto del mondo, infatti noi per molti decenni abbiamo usato i modelli di asilo in alcuni paesi europei per ispirare anche i meccanismi in quei paesi dove i rifugiati sono molto numerosi. Il problema è che il sistema europeo, dobbiamo dirci la verità, è un sistema che funzionava bene per flussi relativamente piccoli. Un sistema molto laborioso di verifiche, di controverifiche, di garanzie, com'è giusto. Decidere se una persona è rifugiata o no può decidere il destino di una vita, quindi è importantissimo che il processo sia molto preciso e molto completo, che ci siano ricorsi e secondi ricorsi, eccetera. È un processo costoso anche, in Europa questo costa, è un sistema giuridico amministrativo che costa. Quindi finché i flussi dei rifugiati, ricordatevi che la mia organizzazione è nata nel 1950-51, quindi all'inizio della Guerra Fredda, principalmente la sua origine era di gestire casi individuali di rifugiati che venivano dal blocco sovietico. Perché allora c'erano rifugiati che scappavano dall'Unione Sovietica o dai paesi del patto di Varsavia e venivano nell'Europa occidentale, scappavano, non erano tanti perché era molto difficile scappare. E poi c'erano altri casi, ma questa è stata la genesi della mia organizzazione, aiutare l'Europa, principalmente all'inizio inizio, poi dopo diventata globale, a gestire questi fenomeni. Il problema è che quando i flussi sono aumentati è diventato più difficile. Già abbiamo avuto in un certo senso una premonizione negli anni 90, molti di voi ricorderanno le guerre dei Balcani, nella ex Jugoslavia, i primi grandi movimenti di popolazione, movimenti di massa in Europa dalla Seconda Guerra Mondiale, non era mai successo. Ma le guerre in Jugoslavia hanno spostato bosniaci, altri rifugiati, molti venuti nell'Europa occidentale, in Germania, per esempio, nei paesi Scandinavia, anche in Italia. E già lì si è visto che quei sistemi funzionavano, ma non così bene, perché non riuscivano a smaltire il gran numero, la grande pressione. È stato in quegli anni che il concetto di protezione temporanea, quello che qui si chiama protezione umanitaria, è stato sviluppato proprio per poter dare rapidamente uno status giuridico alle persone in fuga, in attesa di poter poi ritornare sui loro casi o in attesa che loro potessero tornare a casa loro. Quindi, i Balcani, perché c'è stata molta collaborazione europea con noi, anche attorno a quegli esodi, alla fine si è riusciti a superare lo scoglio di quelle guerre e di quegli esodi. Ma il grosso problema è successo nel 2015. È stato il risultato di tanti fattori. È stato il risultato della crisi economica, è stato il risultato di tanti fattori contingenti all'Italia, all'Europa, ma è stato anche il risultato del fallimento politico in Siria. Perché è stato quello che ha scatenato il movimento di popolazioni nel 2014-2015. Cioè, a un certo punto, i siriani, i cittadini della Siria, hanno capito che la guerra sarebbe continuata per molti anni. Vi parlo di 6-7 anni fa. La guerra adesso è in una fase forse finale, però continua ancora. Quindi avevano visto giusto. Quelli che erano già rifugiati nei paesi vicini, milioni di loro, hanno anche visto che gli aiuti che i paesi ricchi davano a questi rifugiati continuavano a diminuire. Quindi gli uni e gli altri si sono detti, qui per noi non ce n'è, dobbiamo andare oltre. E, diciamolo tutta, i trafficanti, le reti di traffico di persone, hanno capito che c'era un grosso affare da fare nell'aiutare queste persone a muoversi verso l'Europa. E quindi il movimento che si è creato, quel movimento di massa a cui poi si sono aggiunti altri flussi, dall'Afghanistan, dall'Iraq e così via, quello che abbiamo visto soprattutto non era tanto in Italia all'inizio, ma in Europa centrale nel 2015, e poi i flussi che sono continuati anche fino ad ora attraverso il Mediterraneo, sono un po' il risultato di quello. E cosa è successo? Che l'Europa non era pronta. Non solo non era pronta, il suo sistema non era pronto, non ha retto l'urto di questi flussi così grossi, ma questo si è sommato a tutta una serie di apprensioni e di paure che erano dovute anche loro a molti fattori. La crescita del terrorismo dopo l'11 settembre, la crisi economica globale del 2008 e degli anni successivi, e lì ci sono altre persone che hanno fiutato un altro tipo di affare. Ci sono le persone che hanno detto, se noi colleghiamo queste paure con l'arrivo di queste persone nel caos, perché l'Europa era nel caos in quel momento, guadagniamo consenso politico. E lì è nato, esisteva già, ma lì ha preso piede questa, scusate se dico questa parola, questa manipolazione politica degli arrivi di rifugiati e migranti, che ha, di cui certa politica ha beneficiato moltissimo, come sappiamo. Quindi c'è tutta una catena di fattori che si sono sommati e che hanno dato luogo alla situazione difficilissima di oggi. Ora, l'ultima cosa che voglio dire a questo proposito è la risposta alla tua domanda, e cioè cosa si può fare? Bene, io rappresento l'Organizzazione delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Insieme a una nostra organizzazione gemella, diciamo, parallela, che si occupa dei migranti, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, noi abbiamo deliberatamente fatto all'Unione Europea in particolare e ai suoi stati membri tutta una serie di proposte, dicendo non distruggete quel sistema d'asilo così buono che avete costruito negli anni, ma adattatelo a una situazione in cui le decisioni devono essere prese più rapidamente, in cui soprattutto chi è riconosciuto come rifugiato deve essere distribuito, se possibile, attraverso l'Unione Europea, in cui chi non è riconosciuto come rifugiato deve essere ritornato nel modo più umano possibile, rimpatriato nel proprio paese e tante altre cose molto pratiche. Noi abbiamo offerto all'Europa una serie di proposte molto concrete che potrebbero aiutare almeno a diminuire quel senso di caos, di impotenza che oggi certa politica sfrutta per dire, vedete, sono ingestibili questi flussi, chiudiamo tutto e rimandiamoli indietro. Adesso questo è un discorso un po' eccessivo, ma lo sentiamo anche lui. Quindi l'organizzazione è quello che conta molto in queste situazioni, ma due cose finali. Una richiede cooperazione fra gli stati, in Europa soprattutto. L'Europa è fatta di piccoli stati, se questi piccoli stati non cooperano fra di loro per distribuire chi arriva, io in questo sono d'accordo col governo italiano, l'Italia, la Grecia, la Spagna sono stati sulla linea del fronte di questi arrivi, bisogna che questa responsabilità sia condivisa di più, senz'altro, quindi quella cooperazione ci vuole. Ma per fare quella cooperazione, per aprirsi, per dire siamo solidali insieme, ci vuole un certo coraggio politico che purtroppo non vediamo tanto oggi qua da noi. A livello sociale, forse anche di opinione pubblica, servirebbe anche la capacità di commuoversi. Ci sono delle immagini riferite a centri di detenzione per migranti in Libia, le vediamo. Tu come UNHCR hai visitato anche alcuni di questi centri e li hai descritti come situazioni veramente ai margini. Ecco, la situazione della Libia, che è un po' quella che ci interpella di più come paese, come può evolversi ragionevolmente, cioè anche da questo punto di vista? Beh, questa è una domanda molto specifica e un po' complicata anche. perché una cosa molto importante da ricordare è che si parla molto di flussi che vengono verso l'Europa o verso l'Italia. Ci si concentra molto su un aspetto, questo che vedete, l'arrivo, gli sbarchi. Certo, un aspetto drammatico, ma questo è soltanto un pezzetto di questi viaggi. Questi viaggi cominciano da guerre, da paesi in grande difficoltà, traversano molti altri paesi dove la maggioranza di queste persone si ferma, quello che ho detto prima. Questi sono soltanto pochi che arrivano fino in fondo. E quindi l'azione di risposta a questi flussi non deve essere soltanto limitiamo gli sbarchi o litighiamo su chi ne prende meno, perché questo purtroppo è, litighiamo a chi ne prende meno, non a chi ne prende di più la gara, a chi ne prende meno, eccetera, eccetera. Tutte le cose che sapete. Questi sono aspetti importanti, ne ho già parlato. Ma l'importante è guardare tutta la catena del movimento e quindi fare molto di più per i paesi da cui queste persone partono. C'è lavoro politico da fare per la risoluzione dei conflitti, per fare la pace. C'è lavoro di sviluppo economico che deve essere molto più strategico. Le risorse che sono date dall'Europa all'Africa, per esempio, per il suo sviluppo economico, sono ingenti, io non dico di no, ma uno evidentemente non sono sufficienti e due forse non sono sufficientemente strategiche per affrontare le ragioni per cui alcune di queste persone partono. Come dico, alcune sono ragioni politiche, altre più economiche. Ora, in questi canali, in questi viaggi, e dobbiamo affrontare sempre l'insieme dei problemi, non soltanto uno, c'è un nodo particolare che è la Libia, perché la Libia è il paese di transito dove arrivano molti di queste persone e da lì cercano di arrivare in Europa. Il problema della Libia è che non solo come altri paesi di transito ha strutture relativamente deboli, un'economia che oggi non riesce più a produrre lavoro e quindi non sono paesi attrattivi perché queste persone si fermino in quei paesi. Ma la Libia ha una situazione molto più grave. La Libia è un paese in guerra. Questo spesso è paradossale, che ci dimentichiamo che la Libia è un paese in guerra. È un paese in una guerra molto violenta e difficile, che quindi crea problemi ai libici, ma crea anche problemi a queste persone che tradizionalmente la attraversano per venire verso di noi. Quindi sulla ferocia del conflitto libico, sugli abusi che la libertà d'azione che è data alle bande che controllano gran parte del territorio libico ha provocato, perché queste bande possono fare quello che vogliono, e vivono in gran parte del traffico di persone e di altri traffici. Quindi per loro questo è il sostentamento, sfruttare migranti e rifugiati. Ma questo continuerà se non si risolvono le cause politiche di quel conflitto. E qui il discorso è molto lungo e complesso. Perché non è stato risolto finora? È stato giusto l'intervento del 2011, l'intervento militare che ha rovesciato il regime di Gheddafi? Che cosa è nata da quell'azione militare? Una situazione che è quella che vediamo oggi. Più spazio alle bande armate e più spazio alle mafie che abusano le persone, che offrono passaggi sui barconi dei reliti, eccetera. Quindi è un discorso lungo. Ma qui stiamo. Qui stiamo purtroppo oggi. Non possiamo tornare indietro. E quindi dobbiamo agire su questa situazione libica. Io quello che trovo anche lì a volte un po' sconfortante, lasciamelo dire, è che in questa azione politica che non può essere semplicemente un tentativo di fare la pace fra libici, perché questo alla fine è quello che si deve fare, ma da soli è un po' difficile che ci arrivino in questa situazione. Ci vuole un'influenza internazionale per dirigere verso la pace. Ora, purtroppo, in Libia, come in altre situazioni, lo vediamo in Siria del resto, come in Yemen, come in altri teatri di conflitto, quello a cui abbiamo assistito negli ultimi anni è una comunità internazionale lacerata e divisa che ognuna va per conto suo con agende politiche molto diverse, con interessi diversi, e quindi la pace non si farà mai. Questo è molto grave. Se l'Italia e la Francia litigano su come fare la pace in Libia, come possiamo fare la pace in Libia? Spero che non litighino più. Ultimamente mi sembra che stiano cooperando. È già un buon inizio. Ma questo è il tipo di unità politica che l'Europa deve avere veramente per risolvere i problemi che poi stanno alla base di questi flussi e di tutto quello che rappresentano. Se la strategia migratoria dell'Europa si limita, come si limita oggi, sono un po' provocatorio, a decidere dove vanno a finire i 50 disgraziati che sono sull'ultimo barcone, se questa è la strategia migratoria dell'Europa, siamo a posto. Non risolviamo il problema. La strategia migratoria è una strategia che va molto lontano dagli investimenti nello sviluppo, nella pace, nel rafforzare le strutture di tutti i paesi di transito e poi in un sistema d'asilo europeo, come ho descritto prima. Questa deve essere la strategia migratoria di questo continente. Grazie. C'è una domanda proprio sullo stile dell'accoglienza di Cecilia. Buonasera. Riallacciandosi a quello che dicevamo sul fatto che l'accoglienza sia stata fatta diventare un tema spinoso e divisivo. Lei ha una prospettiva molto globale. in quale misura le diversità possono diventare veramente delle ricchezze e qual è, ammesso che esista, un modello di accoglienza che si possa veramente definire vincente? Grazie. Ah, ma qua ne sapete più voi di me, perché qui l'accoglienza la fate, l'integrazione la fate, quindi siete voi che dovete dirmi qual è il modello vicente. Però vi posso fare qualche riflessione, perché questa è poi una domanda molto fondamentale per quanto riguarda non tanto l'accoglienza, ma quello che segue all'accoglienza, l'integrazione delle persone. Io credo che prima di tutto è chiaro che la diversità arricchisce. Vabbè, insomma, io come potrei dire altrimenti dopo tutto quello che ho fatto nella mia vita. L'importante però non è dirlo, ma spiegarlo e convincere che questo è vero. Perché oggi purtroppo molte delle cose negative che si dicono in questa grande discussione, non soltanto sui migranti, ma in tanti altri campi, la famiglia e la sessualità, per esempio, le relazioni fra i paesi e così via, purtroppo ascoltiamo un discorso che invece dice proprio il contrario, che la diversità minaccia, che la diversità è pericolosa. È un discorso molto preoccupante, però se questo discorso si fa ed è ascoltato, ed è ripreso, vuol dire che ci sono dei timori, ci sono delle apprezzioni nelle nostre società che sono molto reali. La gente ha paura di perdere il lavoro in una situazione di crisi economica, la gente ha paura di camminare per strada e di essere uccise in un attentato terroristico, purtroppo capita, la gente ha paura che i propri valori vengano messi in discussione, anche valori liberali, aperti, vengano messi in discussione da rappresentanti di altre culture che hanno altri valori, magari apparentemente più conservatori. E quindi questo insieme di paure è un insieme molto reale, noi l'abbiamo troppo sottovalutato, questo insieme di paure. e oggi in un certo contesto quando tutti questi fattori vengono insieme le paure fioriscono e c'è sempre persone che invece che dire ma allora spieghiamo, cerchiamo di affrontare queste paure, di risolvere i problemi economici, sociali, culturali che stanno sotto queste paure, ci sono sempre persone che dicono attiziamo le paure perché questo crea un sacco di consenso, questo è quello che mi preoccupa. Quindi io credo che quando si parla di diversità perché questa era una parte della domanda bisogna certo dire che la diversità arricchisce perché è chiaro che l'umanità è fatta di persone, siamo tutti diversi, siamo tutti diversi e quindi è soltanto lavorando insieme essendo diversi io, te e te che possiamo andare avanti ma dobbiamo spiegarlo meglio la terribile, non la terribile, l'enorme varietà della diversità del mondo di oggi può essere molto temuta da alcune persone quindi dobbiamo fare attenzione anche a loro c'è una fragilità che non possiamo dimenticare. per quanto riguarda il modello di integrazione io non sono veramente un esperto dovrei esserlo quando finirò di fare questo lavoro mi piacerebbe occuparmi di questioni di integrazione perché credo che sia molto molto importante molto importante noi ci occupiamo di rifugiati ma la cosa più bella per un rifugiato è non esserlo più quindi o la persona torna a casa o se ne va da un'altra parte dove viene integrata e quindi non è più un rifugiato quindi è la condizione ideale cioè in altre parole o uno viene integrato di nuovo nella propria comunità a casa o uno viene integrato in un'altra comunità questo è il destino migliore per chiunque soffra un periodo di esilio ma quale sia il miglior il miglior modello di integrazione non lo so io racconto spesso quello che ho visto in Canada per esempio in Canada le persone il Canada è un paese distante naturalmente che offre ogni anno 25-30 mila posti chiamiamolo così a rifugiati che possono andare in Canada a rifarsi una vita sono già rifugiati in altri paesi in Libano per esempio come avete visto in Turchia in Kenya in Etiopia e vengono selezionati da noi dai canadesi attraverso un certo processo è quello che un po' qui si chiamano i canali umanitari in Italia un po' lo stesso procedimento è lo Stato canadese che lo guida ma è la società canadese che partecipa sono le imprese le associazioni che dicono noi siamo disposti a sponsorizzare 10 rifugiati 20 rifugiati quindi c'è già una molto bella partecipazione della società canadese in questa operazione che facilita naturalmente l'integrazione quando queste persone arrivano e poi c'è un'integrazione rapida cioè io ho chiesto ai canadesi qual è il segreto del vostro relativo successo nell'integrazione di rifugiati e di migranti e loro dicono dicono sempre questo dicono la prima cosa che noi facciamo è di non chiamarli più rifugiati appena arrivano noi li chiamiamo nuovi canadesi new canadians questi sono canadesi come noi dal primo giorno anche se non parlano né il francese né l'inglese anche se non hanno mai visto la neve anche se hanno freddo se hanno paura sono canadesi ora è una parola poi l'integrazione ha delle sfide anche in canada però è molto importante quella parola che loro dal primo giorno si sentono parte di una comunità certo il canada è un paese enorme ricco lontano non è adesso beh non so dagli stati uniti ma insomma non hanno molti rifugiati che arrivano direttamente delle ondate dei rifugiati quindi ha una situazione geografica privilegiata può fare questo tipo di esperienza ma siccome la tua domanda era qual è un buon modello quello è un buon modello e poi naturalmente in canada e in altri paesi si fanno tante delle cose che fate qui che si fanno qui all'arsenale della pace insegnare l'italiano aiutare i bambini nel doposcuola per aiutarli anche ad integrarsi tutte queste cose sono cose che fa la società civile perché il mio ultimo punto a questo riguardo qual è un altro elemento di integrazione lo Stato ha il dovere di investire risorse nell'integrazione e qui io sono un po' preoccupato perché vediamo in Italia e in Europa un declino di queste risorse dello Stato nell'integrazione l'integrazione costa ma però bisogna investirci ed è un investimento positivo nel futuro del nostro paese dei nostri paesi non soltanto dei rifugiati stessi e la seconda cosa è che per quanto lo Stato debba dovrebbe giocare un ruolo importante alla fine l'integrazione la fa la società civile e l'arsenale è una delle prove che l'integrazione si fa perché se non è fatta nel tessuto sociale dalla comunità per la comunità non può funzionare grazie grazie ci sono ancora alcune domande sul libro prima però vorremmo regalarti vorremmo regalarci un momento musicale che accompagnerà il gesto della restituzione il gesto della restituzione viene ripetuto ogni giorno qui all'arsenale possiamo dire ricollegandoci al tema di questa sera che la restituzione è lo strumento attraverso cui l'arsenale ha fatto la pace perché c'è la pace tra gli stati ma c'è la pace che può essere fatta anche partendo dal basso e la restituzione ha permesso di offrire un letto di offrire un pasto di offrire dei percorsi di incontro di ascolto ha permesso a questa casa non solo di essere riconvertita di essere trasformata ma anche di continuare ad essere una casa con le porte aperte Ernesto dice sempre che se il motore di bene che la restituzione alimenta si fermasse ecco gli arsenali chiuderebbero in tre giorni ma gli arsenali non chiuderanno mai se tante persone come noi continueranno a fare la propria parte non solo con delle risorse se le abbiamo ma anche con delle idee con del tempo con della disponibilità perché no anche con della professionalità che può essere messa a servizio degli altri e allora passerà tra voi un sacchetto riempitelo veramente con quello che sentite nel cuore magari anche con quello che avete e questo gesto sarà accompagnato dal laboratorio del suono l'abbiamo ascoltato all'inizio prima dell'incontro Riccardo Zigoni e Donatella Basso del corso di pianoforte classico del laboratorio del suono all'accademia musicale dell'arsenale ci faranno ascoltare un brano di Chopin lento con gran espressione grazie a tutti 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 Riccardo Zigoni e Donatella Basso del laboratorio del suono Filippo tornando al tuo libro prima abbiamo detto di alcune parole e verbi che ricorrono ce n'è un'altra che ricorre frequentemente la parola assassini l'idea che soprattutto in contesti di crisi umanitaria il bene il bene il bene e il male il bene e il male molto spesso procedano di pari passo che cosa si può dire che cosa si può dire di questa esperienza perché non deve essere facile rapportarsi anche con chi sta dalla parte del male beh questo è un punto abbastanza chiaro cioè il lavoro umanitario soprattutto in contesti nel tipo di contesti che ho descritto significa che chi lo fa deve essere preparato a trattare con chiunque perché purtroppo si tratta con chi controlla un certo territorio per aiutare le persone che si trovano su quel territorio e molto spesso nelle situazioni di conflitto di guerra nelle quali ci troviamo chi controlla il territorio non sono persone buone non sono persone con dei fini umanitari ma sono dei criminali degli assassini mi è capitato più di una volta è capitato a me a tanti miei colleghi in Libia oggi a volte ci si ci rimproverano io lo so ci si rimprovera di essere complici di questo sistema di detenzione beh insomma c'è poca scelta o stiamo là e cerchiamo di aiutare un pochino per quanto sia possibile queste persone queste persone in situazioni difficilissime nei centri di detenzione avete visto alcune immagini sono veramente spaventosi li ho visitati anch'io però se si sta lì e si gestisce con e si vuole aiutare veramente in modo pratico e purtroppo bisogna negoziare con persone che hanno fini scopi attività molto brutte che sfruttano che uccidono io li ho chiamati assassini per brevità nel libro il sottotitolo però dice il mio lungo viaggio tra filantropi assassini cioè non ci sono solo gli assassini ci sono anche persone molto eroiche che fanno un lavoro in queste situazioni quindi vediamola anche un po' nella sua completezza però questo è un punto importante è un punto importante purtroppo fare l'umanitario io sono partito quando ero un ragazzo pieno di ideali che ho ancora che ho ancora questi ideali di fare che cosa rappresenta il lavoro umanitario aiutare le persone però mi sono reso conto e lo descrivo molto presto nel libro che per farlo bisognava sporcarsi le mani più di quanto io non avessi pensato è uno sporcarsi le mani non disonesto non 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 che noi diventiamo assassini o ladri o trafficanti no ma bisogna trattare purtroppo con tutte queste persone e guardate non è non è facile ci si arrabbia è frustrante è difficile si coltivano dei sentimenti molto difficili verso le persone però si impara anche in questo lavoro come in tanti altri mestieri non è soltanto nel mio si impara una grande pazienza ci vuole un grande senso di diplomazia perché bisogna sempre trattare con queste persone dandogli la dignità dell'ascolto la dignità del dialogo però a volte se ne farebbe meno c'è un altro prego c'è anche un altro passaggio che mi ha colpito perché ad un certo punto del libro tu ti fai una domanda dici io ripensando agli scenari di crisi in cui ho operato mi rendo conto che molte delle crisi in cui ho avuto ruolo quelle crisi non sono ancora risolte forse la Cambogia è un po' più stabilizzata e ti chiedi proprio umanamente che a volte viene fuori questa domanda a cosa è servito tutto questo a volte il mondo sembra quasi una tela di penello perché viene cucita e poi disfatta ripetutamente tu però ti dai una risposta che è molto bella che poi è una risposta anche di speranza la puoi condividere? sì io no io credo che questa sia una domanda che uno si fa tutto il tempo nel mio tipo di lavoro ma sono sicuro che voi qui all'arsenale vi fate la stessa domanda tutti i giorni a cosa serve? Facciamo e si disfa facciamo e si disfa questo è anche soprattutto nelle situazioni di guerra e di conflitto questo è molto acuto è molto forte e io credo che anche sia molto importante due cose una avere un grande senso dell'umiltà e cioè questo tipo di lavoro richiede essere pronti all'insuccesso alla sconfitta perché si tratta con forze enormi molto più grandi di noi ci sono progressi si fanno progressi si hanno risultati non interpretatemi in modo sbagliato ma sono tante le sconfitte i momenti bui i momenti in cui sembra che tutto quello che si è fatto o tutto quello che si è fatto viene distrutto questa tela di Penelope è un tema ricorrente delle nostre esistenze di umanitari però però ci vuole un'umiltà ci vuole l'umiltà del dire e continuiamo nonostante questo non siamo noi che cambieremo soli il mondo ma se lo facciamo insieme e se persistiamo abbiamo qualche probabilità di più ma poi c'è un altro tema che io credo che sia molto importante io descrivo anche chi di voi arriva soltanto alla pagina 10 ci arriva lì quindi si fa presto decido all'inizio del libro descrivo all'inizio del libro un episodio che mi ha molto marcato quando appunto ho lasciato l'Italia e sono andato a fare il volontario nei campi rifugiati della Thailandia allora c'era la guerra ancora in Indocina e venivano i rifugiati dalla Cambogia in Thailandia io ero guarda voi non avete idea di quanto sprovveduto ero io non sapevo niente niente non avevo nessuna esperienza ero molto ingenuo anche perché adesso voi avete tanti strumenti per conoscere capire prepararsi noi non avevamo molto a quell'epoca si andava molto allo sbaraglio poi non c'era ancora tanto questa idea della professione umanitaria soprattutto in Italia quindi era tutto molto nuovo per me sono andato e mi hanno portato in un ospedale dove si curavano i rifugiati e io in quell'ospedale ho assistito appena arrivato ma ero arrivato da qualche giorno ho assistito davanti a me è morto un bambino un bambino è morto di malaria davanti a me davanti a me un bambino molto piccolo nelle braccia di sua madre e questo questo episodio mi ha marcato per tutta la vita io ci ho pensato ci ho scritto tutta la vita mi ha marcato perché ho capito che al di là di quella sconfitta perché era una sconfitta la morte di quel bambino l'ospedale era fatto perché lui non morisse e lui è morto ma al di là di quella sconfitta era importante continuare verso queste persone che venivano a farsi curare come a tutte le persone che ne hanno bisogno continuare questo gesto umanitario perché alla fine io ho parlato di tutto il contesto politico le strategie i dibattiti i grandi temi alla fine l'umanitario è un gesto di solidarietà gratuito che non ha niente di ritorno che deve essere fatto per bontà perché per se stesso ha valore il gesto di solidarietà e questo io l'ho capito in quel momento di sconfitta e mi sono detto bene anche se di queste sconfitte senz'altro ne avrò a migliaia a centinaia nella mia vita devo continuare insieme ai miei colleghi a fare quel gesto umanitario e ricordatevi che questo è importante anche nelle nostre vite tutti i giorni grazie Filippo ci avviamo verso la fine di questo dialogo c'è ancora un momento finale noi siamo abituati ad affidare la sintesi di questi incontri proprio ai ragazzi che ci diranno che cosa hanno imparato questa sera quindi è un modo per impresa diretta per avere un feedback io ho imparato che cooperazione è la parola chiave per la pace e che quando la politica fallisce che spesso nascono le emergenze umanitarie io ho imparato l'importanza del farsi ispirare anche da situazioni difficili come appunto quella che ci ha descritto delle persone che fuggono da contesti estremamente difficili io ho imparato che l'integrazione è possibile solo se la società è disposta a impegnarsi ad esserci per accogliere queste persone che fuggono da situazioni molto difficili io ho imparato che non bisogna avere paura delle diversità ma anzi accoglierle e riconoscerle come ricchezza e partire e partire proprio dagli individui che siamo per creare una rete di solidarietà io ho imparato che possiamo uscire dalla retorica del ci stanno invadendo tirando fuori i numeri che oggettivamente dimostrano che non è così a me ha colpito la metafora tra paura e febbre grazie c'è un ultimo gesto che vorremmo fare con te Filippo prima due avvisi all'uscita trovate chiaramente rifugi e ritorni troverete i contenuti di questa serata in una lettura che sicuramente vi coinvolgerà trovate sulle sedie anche un numero l'ultimo numero di nuovo progetto che è la rivista del Sermig in cui abbiamo cercato di approfondire proprio anche i temi di questa serata e vi do anche appuntamento al prossimo incontro dell'Università del Dialogo che sarà l'8 aprile o lunedì alle 18.45 sarà con noi Andrea Franzoso è un ex funzionario vedete un ragazzo giovane che ha avuto il coraggio di denunciare una situazione di corruzione all'interno della sua azienda pagando di persona e verrà qui proprio per testimoniare condividere questa scelta insomma c'è chi dice no il titolo posso dire una cosa una cosa scusate perché lui ha parlato del libro adesso questa pubblicità il libro tutti i proventi del libro il 100% vanno a progetti educativi in Afghanistan che io insieme ad alcuni amici sto sostenendo da molti anni quindi volevo soltanto farvi sapere questo è importante grazie e poi troverete fuori anche i volantini dell'iniziativa in cosa crede chi crede che è un percorso di formazione che l'arsenale sta vivendo in questo tempo di quaresima e trovate tutte le informazioni fuori allora vorremmo concludere questo incontro Filippo prima di tutto ringraziandoti per la disponibilità perché sei venuto apposta quindi è stato molto bello da parte tua e invito Ernesto qua sul palco e ti vuole lasciare proprio un segno di questa casa la bandiera della pace è al contrario va girata è al contrario ce la facciamo è così ecco grazie 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 a Filippo Grandi grazie ragazzi grazie a tutti voi e buona serata grazie a tutti 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 parlo a voi con il cuore di una madre grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Solo perché progettate, togliete l'infa alla vita e risorse alla scuola. Togliete i fondi agli ospedali, prendete il pane di chi ha fame, rubate l'acqua e l'aria. Togliete i fondi agli ospedali, prendete il pane di chi ha fame, rubate l'acqua e l'aria. Delle case più sicure, cure per le malattie. E poi quando voi sparate, uccidete per davvero e allevate la vendetta. Preparate un'altra guerra, oggi io vi dico no, ci sarà un tempo senza voi. Senza voi Ah 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 Ci sarà un tempo senza voi, un tempo senza voi. Oh, 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 oh. Grazie a tutti. Grazie a tutti.